Bentornati in questo nuovo video della Farmacia Agricola di Lioni, sul canale YouTube della Farmacia Agricola di Lioni, un'azienda che da 40 anni si occupa di prodotti per l'agricoltura. Oggi parleremo di arnie. Come sappiamo in natura le api vivono in strutture di scere, dalle forme ovale o allungate, che non si prestano affatto ad un utilizzo meccanizzato da parte dell'apicoltore. Queste strutture infatti sono disuniformi, disomogenee e quindi non possono essere gestite in maniera ottimale e poco possono essere utilizzate per l'estrazione di miele in quantità. L'arnia è un vero e proprio strumento di produzione, quindi dobbiamo intenderlo come uno strumento per uso agricolo che deve essere al servizio dell'apicoltore e contemporaneamente venire intorno a quelle che sono le esigenze fisiologiche e di organizzazione della famiglia di api. Le arnie sono degli strumenti agricoli veri e propri, strumenti finalizzati al processo di produzione, nel fattispecie per la produzione di miele o derivati del settore apistico, propoli, pappa reale, cera o anche delle stesse famiglie. La produzione agricola quindi deve essere intesa come un sistema imprenditoriale di produzione dove l'arnia contribuisce in maniera attiva, a livello strutturale, a portare reddito all'agricoltore. Affinché questo possa essere fattibile, l'arnia deve rispondere a dei requisiti strutturali tali da permettere una giusta meccanizzazione e in idonea meccanizzazione dei processi di produzione così da batterne i costi e contemporaneamente deve venire incontro a quelle che sono le esigenze fisiologiche riproduttive della famiglia che all'interno vi risiede. Cosa è stato necessario? Negli anni, quelli che venivano definiti bugnivillici sono stati sostituiti con strutture mobili, strutture a favo mobile, ideate dall'americano Langstroth nel 1851. Langstroth nel 1851 per primo riuscì ad individuare il cosiddetto spazio d'ape, ovvero uno spazio minimo tra due superfici piane che impedisca, capace di impedire alle api, la realizzazione di ponti di scera o di propolizzazione, quindi degli spazi che restano vuoti e restano non costruiti se vengono rispettati. A questo punto che cosa succede? Che per primo Langstroth costruì l'arnia razionale, la prima arnia razionale, a favo mobile. Favo mobile che cosa significa? Significa che all'interno dell'arnia abbiamo delle strutture capaci di poter ospitare le costruzioni di scera e che contemporaneamente possono essere rimosse, sostituite o portate in azienda per poter effettuare l'estrazione del miele. L'arnia quindi nasce come obiettivo di coinciliare quelle che sono le funzioni fisiologiche e riproduttive dello sciame e contemporaneamente nasce con l'obiettivo di apportare reddito all'azienda agricola, quindi all'imprenditore agricolo. La parte costruttiva fondamentale dell'arnia, come abbiamo detto, è costituita dal favo. Tutta l'arnia, tutta la struttura dell'arnia, viene adattata alle dimensioni del favo. Il telaino è una cornice in legno, di dimensioni specifiche, lo vedremo fra un attimo, armato con filo metallico su cui viene posizionato il foglio scereo. Sul foglio scereo le api costruiscono in maniera regolare, rispettando una figura geometrica piana che ne permette poi la successiva meccanizzazione e utilizzo, sostituzione e trasporto verso l'azienda agricola e l'estrazione attraverso le centrifughe. La scoperta principale di Langstrond nel 1851 fu proprio questa, la realizzazione di una struttura in legno su cui le api potessero costruire in maniera regolare e facilmente meccanizzabile. Lo spazio d'ape deriva da uno studio attento ed accurato di quelli che sono i favi presenti in natura. Langstrond si rese conto che le celle normali, che hanno un diametro di circa 5 mm e una profondità di 10-12 mm, rimangono sempre distanzate tra di loro per uno spazio che varia tra i 7 e 9 mm. Dimensioni inferiori al di sotto dei 7 mm, spazi inferiori da 7 mm, vengono propolizzate, vengono chiuse. Spazi superiori ai 9 mm vengono colmate con apporti di cera. L'obiettivo quindi di Langstrond è stato proprio quello di realizzare un'arnia con all'interno un certo numero di favi mobili, estraibili, distanziati tra di loro in maniera razionale in modo da evitare che questi favi possano essere legati tra di loro e strutturati tra di loro attraverso la realizzazione di cera o propoli. Il principale vantaggio delle arnie è proprio questo, il fatto che le api possano costruire su favi e su strutture mobili. Come abbiamo visto prima, un attimo fa, il tutto viene realizzato dalle api su telaini. Telaini su cui viene applicato il foglio cera. L'arnia di cui oggi parliamo è l'arnia d'Adant, l'arnia db, l'arnia standard. L'arnia db è composta da un tetto, sotto il tetto, immediatamente sotto il tetto abbiamo un coprifavo, un melario, un nido con gli annessi metallici che vanno a completare la struttura portante dell'arnia. L'arnia può ospitare, l'arnia standard può ospitare 10 o 12 favi. Abbiamo la possibilità di scegliere tra un'arnia standard a 10 favi oppure un'arnia standard a 12 favi, quindi di dimensioni maggiori. Si preferisce l'arnia a 10 favi, in quanto un'arnia a 12 favi sarebbe eccessivamente pesante per il trasporto e da quel che si è visto e si è appuntato, l'arnia a 12 favi entra in produzione più lentamente. Andiamo a vedere nel dettaglio questa arnia da cosa è composta. Abbiamo un tetto in lamiera, generalmente una lamiera zincata. È importante che il tetto sia completamente isolato, quindi con una cornice in legno che ne dà struttura e rigidità, e non un semplice coperchio in lamiera. Particolare caratteristica del coperchio, infatti, è che deve essere isolante, deve essere del giusto peso per evitare che il vento lo spazzi via e non deve diventare rovente durante il periodo estivo. Quindi un'arnia con questo tipo di coperchio non va bene. Può disturbare le api, può far aumentare o può ridurre la capacità di termoregolazione dell'alveare. È preferibile quindi che l'arnia, è nel caso dell'arnia della farmacia agricola, abbia una cornice in legno e sia rivestita almeno in masonite di un certo spessore, così da aumentare in maniera enorme l'issipamento termico e contemporaneamente il trasferimento termico all'interno da parte dei raggi solari, soprattutto nel periodo estivo. Immediatamente sotto l'arnia, sotto il coperchio, troviamo il coprifavo. Il coprifavo è realizzato con una cornice da 3,5 cm, al cui interno troviamo il disco a quattro posizioni. Il disco a quattro posizioni è uno strumento indispensabile che permette all'apicoltore di comunicare con l'interno dell'arnia. Come avviene questo? Questa situazione la si colma con l'utilizzo del nutritore. Un deficit alimentare può essere sopperito utilizzando uno sciroco a base di glucosio che viene inserito all'interno del nutritore e che poi viene appoggiato semplicemente sul coprifavo in corrispondenza del foro aperto. Ecco che il cono di alimentazione del nutritore permette attraverso questo bicchiere anti-annegamento alle api di raggiungere il fondo del nutritore senza andare a colonizzare la parte sovrastante al coprifavo. Il coprifavo può essere utilizzato sia con nutritore circolare che in caso di utilizzo di candito semisolido. E' importante questo volume d'aria in quanto crea un buffer, cioè una zona tampone tra il coperchio e il melario così da ridurre i cosiddetti shock termici e contemporaneamente durante il periodo estivo lasciando il disco a quattro posizioni sul punto forato un garantire la giusta ventilazione. La ventilazione all'interno dell'arnia, lo vedremo fra un attimo, è indispensabile affinché il miele possa maturarsi all'interno delle celle prima dell'overcolatura in maniera ottimale e permettere la giusta termoregolazione della colonia. Immediatamente sotto al coprifavo incontriamo il melario. Il melario è un parallelitipedo in legno al cui interno sono presenti i favi da melario più piccoli rispetto ai favi dal nido il melario è composto da nove favi uno in meno rispetto a quello presente nel nido. Per quale motivo? Poiché la cella destinata all'accumulo di miele ha una larghezza, una profondità maggiore rispetto ad una cella destinata all'allevamento di api. Una cella destinata all'accumulo di miele ha una profondità di 2 cm, 2,5 cm rispetto ad una cella destinata all'allevamento di api che ha una profondità che può variare dal cm al cm, 1,5 cm questa situazione del tutto fisiologica induce la necessità di dover utilizzare un fuoco in meno per poter compensare alla maggiore necessità di spazio per la realizzazione di favi da melario il melario è strutturato con legno da 2,5 cm di spessore con maniglie laterali per poterne permettere lo spostamento e la movimentazione è importante notare come all'interno del nostro melario il distanziatore è posizionato circa 5 mm questo è il distanziatore è posizionato circa 5-6 mm al di sopra rispetto alla scanalatura di appoggio così da poter permettere la presenza di uno spazio salva-ape ed evitare di schiacciare l'ape le api presenti durante la fase di smelatura immediatamente sotto al melario troviamo uno strumento indispensabile che si chiama escludiregina o griglia escludiregina ha una dimensione standard di 43 x 50 43,5 x 50 ed ha un passaggio calibrato di 4,3 mm attraverso questo spazio può passare esclusivamente l'ape operaia ma non può passare l'ape regina questa griglia ha la funzione di confinare la regina all'interno del nido sottostante è necessario che la regina venga confinata poiché una eventuale risalita della regina a melario potrebbe comportare la presenza potrebbe causare la presenza di covata all'interno dei favi da melario nel caso in cui ci dovessimo imbattere in favi da melario con covata beh rischieremmo di produrre miele di bassissima qualità e contemporaneamente rischieremmo di andare a stravolgere quelle che sono le attività fisiologiche normali della famiglia quindi è importante che la regina venga confinata all'interno del nido e questa griglia di dimensioni calibrate ne impedisce il passaggio in questo modo la regina può esclusivamente adoperarsi e svolgere le proprie attività all'interno del nido di escudiregina ne esistono diverse tipologie in questo caso un escudiregina in plastica svolge lo stesso identico lavoro dell'escudiregina metallico si posiziona e su questo escudiregina si va a posizionare il nostro melario come ci siamo detti poc'anzi l'arnia standard permette una certa meccanizzazione nelle grandi aziende molte aziende il prelievo del melario la fase di prelievo del melario si rende necessario attuarla in assenza di api nel melario per fare in modo che le api non disturbino la fase di prelievo nel melario quindi rendano più agevole e più comodo il prelievo dell'intero melario ci facciamo aiutare da strumenti come questo possono essere ovviamente in plastica oppure possono essere in legno ma sono tutti caratterizzati anche di diverse forme possono essere a raggiera possono essere allungate a lasagna ma sono tutti caratterizzati dalla presenza di un foro grosso di invito per le api per il passaggio dall'alto verso il basso il passaggio all'interno di un labirinto e la fuoriuscita dal foro piccolo in questo modo le api vengono invogliate ad attraversare il labirinto a passare nel nido e a rimanere all'interno del nido il nido il nido è quella struttura in cui la famiglia trascorrerà la massima parte del tempo il nido è la struttura dedicata al vero e proprio allevamento delle api allevamento inteso come spazio vitale come spazio in cui la famiglia può svolgere tutte le proprie attività fisiologiche riproduttive ed alimentari il nido è composto da dieci favi mobili facilmente estraibili su cui le api vanno a realizzare le proprie strutture atte alla loro moltiplicazione e al loro benessere dopo un certo numero di anni questi favi tendono ad inscurirsi ad accumulare residui di sporco quindi li noteremo scuri, neri le celle inizieranno ad ispessire le proprie pareti quindi si avranno diametri interni inferiori e a quel punto sarà necessario la sostituzione ecco che l'arnia standard a favi mobili anche questa volta viene incontro alle esigenze dell'apicoltore e anche alle esigenze fisiologiche della famiglia permettendo la sostituzione di quei favi di scena che si sono invecchiati e che stanno accumulando metaboliti residui e che rischiano anche di aumentare la probabilità di malattie dell'apiario una particolare componente dell'arnia che è diventata essenziale ed obbligatoria nelle arnie moderne è il fondo il fondo è caratterizzato da un vassoio mobile in la mira semplice e contemporaneamente da una rete specifica che ha una funzione importantissima la funzione principale di questa rete è permettere alle api di garantire una buona pulizia dell'arnia una funzione ausiliaria è quella di espulsione e successiva cattura della varrova sul cassettino dell'arnia sono due funzioni che vengono effettuate ed attuate da un unico strumento ovvero il fondo realizzato con rete nel nostro caso una rete in acciaio inox e una lamiera di chiusura come ben sappiamo le api durante la propria attività biologica producono degli scarti questi scarti vengono allontanati e vengono espulsi al di sotto dell'arnia o attraverso la porticina frontale contemporaneamente durante l'attività di trattamenti contro la varroa questa viene allontanata e resa inerme da ipotizziamo un trattamento con ossalico o un trattamento con dell'api life var e la varroa dovrà essere intrappolata sul lamierino precedentemente imbrattato con dell'olio ecco che il fondo dell'arnia assume un'importanza cruciale nella lotta nel controllo e nella gestione della varroa e contemporaneamente viene incontro a processi fisiologici di tutta la famiglia nel nostro caso la rete utilizzata è in lamiera in acciaio inox una griglia stirata in acciaio inox e non una lamiera zincata non una lamiera zincata perché la lamiera zincata può andare incontro a rapidi fenomeni di ossidazione mentre il prodotto in acciaio inox vi garantirà sicuramente una vita più lunga a questo accessorio come sappiamo l'arnia è realizzata in legno ma qual è il materiale più idoneo qual è l'essenza di legno migliore affinché l'arnia possa espetare bene la propria attività l'arnia è uno strumento funzionale che permette all'alveare di svolgere attività biologiche importanti tra cui anche la termoregolazione contemporaneamente il miele una volta deposto così come il polline ha necessità anche di una fase di disidratazione il nettare infatti è particolarmente ricco in acqua e deve essere disidratato sono quindi da escludere quei legni che hanno una densità specifica eccessivamente alta un peso specifico particolarmente alto quale può essere il castagno o il rovere così come sono da escludere quei legni che non hanno una idonea tenacità quale per esempio può essere il pioppo ecco che l'abete più raramente il pino trova la giusta affermazione e la giusta funzione in quanto ha un ottimo potere isolante termoisolante e contemporaneamente ha una grossa capacità di traspirazione e quindi di compensare a quelli che sono gli sbalzi di umidità che si hanno all'interno dell'arnia durante la fase di deposizione del miele inutile quasi inutile ahimè parlare di arnia in plastica o di arnia in poliuretano o altri materiali in quanto sono particolarmente sottoposte a condensa interna e si sono risultate troppe volte inidone all'utilizzo intensivo un'altra nota importante riveste la verniciatura dell'arnia la verniciatura dell'arnia deve essere effettuata con prodotti atossici quindi con prodotti a base d'acqua e non deve subire eccessive stratificazioni così da permettere all'arnia e al legno la giusta traspirazione arnie con superficie esterne cerate o con eccessive mani di vernici possono impedire e rendono inutile l'utilizzo di un legno che ha la funzione traspirante e di assorbire umidità e creare una sorta di elastico tampone nei confronti di quelli che sono le variazioni microclimatiche all'interno dell'arnia sotto il punto di vista di temperatura umidità quindi utilizzare cere o utilizzare eccessivi strati di cere o utilizzare eccessivi strati di vernice può essere solo controproducente da come abbiamo visto l'arnia quindi è composta da un nido è composta da 10 favi mobili da nido è composta da una griglia escludiregina che può essere in plastica o può essere in metallo è composta da un melario che è il centro di produzione del miele per l'apicoltore è composta da 9 favi da melario è composta da un coprifavo da un coperchio ulteriori accessori che compongono l'arnia sono gli angolari presenti sempre in tre punti che permettono al melario di scorrere facilmente sul nido di trovarne sede e di evitare che magari possa ribaltarsi o volar via delle maniglie laterali presenti sia da una parte che dall'altra del nido in metallo duro delle maniglie incavate nel legno del melario che ne permettono una facile presa frontalmente la famosa porticina per l'ingresso delle api generalmente la porticina ha due posizioni una per l'ingresso delle api nel periodo estivo di maggior deposito e una di chiusura delle api per il trasporto o durante il periodo invernale di riposo ecco che siamo passati da una struttura arcaica dei bugni villici in cui le api alloggiavano all'interno di ceste invimini di legni incavati di ceppi di legno incavati ad una struttura che permette grazie all'utilizzo di favi mobili un'apicoltura rispettosa della della famiglia e contemporaneamente compatibile con quelli che sono i processi produttivi dell'apicoltura moderna spero che questo video vi sia sia stato di vostro interesse spero che questo video sia stato di vostro interesse se avete necessità di ulteriori informazioni potete tranquillamente contattarci sul sito farmaciaagricola.com inviarci mail contattarci telefonicamente per qualunque altro tipo di informazione grazie e al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.